Musica Cerca monete nell'astronave e compra una bottiglia di gazzosa Dentro un'astronave aliena Certo, certo, certo Va bene Ecco qua Allora, carichiamo il colpo Madonna mia, di nuovo questa sezione Ecco fatto Mi fa piacere Dicevo, mi fa piacere che la tecnologia aliena sia facilmente distruttibile Dov'è? Ah, eccoti Dai, madonna mia Dicevo che la tecnologia aliena sia facilmente distruttibile Da una fionda a ghiande Io in ogni caso Come al solito Mi metto qui E recupero già Tutte le ghiande disponibili Allora Non l'ho preso mai Vediamo Quella non ci arriva Ok, perfetto Di quello dove siamo entrati Di qua ci siamo appena stati Di qua ci sono altre ghiande Di qua si prosegue Vabbè, a questo punto Non mi sembra ci sia nulla Se non Appunto Le prima citate ghiande Però Già che siamo qui Le prendiamo Che tanto Qualche colpo in più Almeno Lo riusciamo A Tenere Schifo Non ci fanno Giusto? Tra l'altro Chissà Di cosa sanno Le ghiande Visto che A loro piacciono tanto Devono essere anche buone Magari Sapete cos'è che Non mangio Da un sacco Le castagne Le castagne Non le mangio Da una vita Ecco qua Tutte le ghiande Prese Possiamo Proseguire Visto che Non c'era nient'altro Alla fine Questa era una zona Pre Che ti Doveva Dare Giusto Un po' di vita Nel caso arrivassi qua E morivi Allora Dove dobbiamo andare In teoria Di là Vero? Però non vedo nulla Dobbiamo O a meno che Non devo salire No? Non credo Non arriva così in alto Ah giusto Mi sono dimenticato Di questo dettaglio Madonna mia Ecco fatto Mi ero dimenticato Dell'occhio Di Osiris Che ci osserva Calmo Questo giro Andava un po' Troppo veloce Ecco qua Qualcun altro Ovviamente Dai forza Peccato che le ghiande Però A sti nemici Non faccio danno Di qua O di qua Dai però Che cavolo No 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 Ma resta pure lì Ad aspettare Che il nemico Con il laggio laser Ti venga a sparare Ecco fatto A posto A sto punto Non mi spreco Abbiamo Le vite Complete Voglio dire Che devo fare Che devo fare Che devo fare Che è? Ah Devo Attivarli tutti Ok allora Aspetta un attimo Aspetta un secondo Fammi vedere Se magari Dietro qualche Muro Si nasconde Almeno Una figurina Sembrano Un po' Tanti Però Vabbè Già che ci sono Ecco Ora ci molliamo Anche la nostra Ultima ghianda Necessaria No non mi sembra Ci siano Figurine Questo Aspetta in realtà Magari questa zona Che è un po' Più grande No Vabbè Ce le sono Scordate A sto livello Allora Uno E due Perfetto Tra l'altro L'ombra Sopra la pedana Che dovrebbe essere Fatta di pura Energia E forza Si vede L'ombra nera Sotto Va bene Vabbè Ho dettagli Non è che potevamo Essere così Pignoli Allora Altra aria Che si è aperta No Dritto Va bene Sparo io In auto Sparo io Ecco Fatto Non cadere Mi raccomando Dove mi sta portando? Ma scusami Tutto sto giro Per riportarmi Qua al centro Vabbè Allora Ma Sti alieni E le loro Strane idee Come mettere Un timer Che dura Niente Sopra Delle pedane Invisibili Io ancora Non ho trovato Figurine Strano Aspettiamo Cash Dai Dai Ecco Fatto Prossimo Dai 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 Inseguimi Sono un pollo Ecco Fatto Prossimo Di qua No Maledizione Ancora uno Ovviamente Che ce n'è ancora uno Dai No Ce ne sono due Mamma Ecco Fatto Basta Ok Allora Figurine Come al solito Io Non ne vedo Se la telecamera Poi si degnasse Di girarsi Allora Come prima Abbiamo Il bottone Qui E Il bottone Probabilmente Questo giro Dall'altro lato Esatto Di 180 gradi Figurine A sto giro Se se lo l'hanno Dimenticate Boh Chi lo sa Nient'antio Mi refillo L'ovetto Via da qui Allora Giusto per minuzia Controlliamo Ah ma sono tre bottoni Allora Uno Due Di qua E tre Questo qui Ok Figurine No niente Proprio Sto livello Se le sono Scordate Completamente Allora Mettiamoci Al centro Quindi Uno Due E Tre Fatto Stato anche Abbastanza Facilotto Figurine Come al solito Nulla Boh Vabbè Se dovesse S che Sto livello Le saltiamo Sinceramente Mi frega Relativamente Ormai Interesse primario Finirlo Il gioco Poi Il resto È Ormai Eh ma se non ci arrivi Sei scemo tu Chicken Che ti devo dire Dicevo Ormai È secondario Sai che ti dico Aspetta un attimo Facciamo la cosa Più intelligente No Perfetto Anzi Vediamo se Riesco a farla Più che altro No eh Mi hai fregato Maledetto Mi ha Mi ha chiuso l'occhio Vabbè Vabbè Qua sono stato scemo Io Dai Non Non è colpa Del giuego Però Queste pedane Guarda che sono Lontane Fra di loro E la profondità Non è Così di facile Intuizione Eccola lì Vabbè Questa è facile Basta buttarsi di sotto E è fatto Però come ho detto Figurine Boh Niente A sto giro Ovviamente Super Lagi laser Apre E di nuovo Pedane Laserate Figurine Boh Vabbè Oh sincero Come ho detto Ormai A sto livello Chi se ne frega 1 2 3 1 2 3 Aspetta che diventa rossa E' dietro di me E' dietro di me 1 2 3 Ok Con calma Perfetto Un po' più Esatto In avanti Che se no Ho paura che Non ci arrivo Mi cadi di sotto Esatto Allora 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 Aspediamo Pedana Eccola qua E' quasi quasi Mi faccio friggere Così mi ricarico La vita Esatto Vabbè In realtà non è stato Non è stato voluto Questo giro Però Ormai Eravamo lì Tanto valeva Farsi cucinare Da canna vacciola Mangano 4 minuti Grande Antonino Spero che Qualcuno Che ti conosce Veda Veda Questo video Te lo dica E ti mandi Questo saluto Ciao Antonino Mangano 4 minuti Grazie Anton Allora No E' cavolo Ma che non è facile Perché la telecamera E' una merda Non si gira E tu vai Con il tempo Lo sconfitto Nooo L'angolazione Dicevo Vai con il tempo Di movimento Sbagliato A parte la distanza Che il gioco Vabbè Ecco fatto Era una cavolata Eppure sono riuscito A morirci Lo stesso Ok Aspettiamo Vai 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 Facile Niente di che E adesso Arriva la parte difficile Perché eravamo Proprio Al limite Allora Uno Non ci arrivo Due Tre Eccoci qua Aspetta No E' pirla Di un pollo Porlo Pirla Pirlo Orlo Allora Aspetta che faccia il fulmio Perché Si sa mai Non lo fa Vabbè Ero convintissimo Ero Dannatamente convinto Che l'avrebbe fatto Nel momento In cui Passavo io Ti giuro Ero convintissimo C'è stato un po' di rischio Effettivamente Oh comunque Figurine Zero ancora Incredibile E non è che Non le abbiamo viste O non sono riuscito A raggiungerle O simili Quasi quasi muoio Ah ok Niente Vabbè Meglio L'avevo detto Che preferivo morire Sto giro Ecco qua E proprio Non ci sono Non abbiamo viste Neanche una Incredibile Ecco Fatto Comunque Sincero Nell'ultimo periodo Forse Forse I giochi che mi sono piaciuti Di più sono stati Kung Fu Panda 1 E Megamind Per il resto Non mi sento di aver giocato Grandi e bei giochi Non A parte Vabbè I fantagenitori Ma parlo di Disney E Dreamworks Quello è Nickelodeon Ecco qua Non mi sento di aver giocato Dei bei giochi Maledizione Afflitto Forse Ma non sconfitto Ma stai zitto chicken Colpa tua E dei tuoi tempismi di salto Orrendi Se stai Per morire Sappilo Ok Ah di nuovo le batterie Vero Quella è una figurina No è una batteria Vabbè Chi se ne frega A sto punto delle figurine Se è il gioco stesso A non mettermele Non vedo Perché dovrei preoccuparmene Dai diventa rossa Ecco fatto Speriamo di fare in tempo Dai diventa rossa Per favore Vabbè Aspetta Ah ok Madonna mia Meno male Allora A parte che per fortuna Ci ho provato a saltare Di qua Come vai? Sono gialle? Aspetta 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 Ok Vai 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 Eccoci Perfetto Allora Ah ok Ce n'è ancora uno Perfetto Mamma mia Qua è stato un attimo rischio Allora Prima batteria andata Seconda Batteria Di qua Anche se stiamo facendo Il giro Più lungo Di quanto Sarebbe necessario Però Va bene Sistema alieno Regole loro Ah ok Questo In questo subito Devi attivarle Perfetto Calmo Batteria Batteria Eccola Qui Perfetta Di nuovo Premi Bottoncino Di qua Sali Su Pedana Di Salto Dai Che ce la facciamo 3 2 1 All'ultimo Ottimo Fine livello No Oh Tower defense Nuovamente Cosa Devo fare O meglio Ah ecco Più che altro Dove devo andare Qua Oh io Cerco Di distruggerne Il maggior numero Possibile Poi ovvio Che Il gioco Va un po Come vuole Lui È un po Difficile Difendersi Contro Tutti Sti colpi Sai Più che altro Non ho capito Come faccio A concatenare Certi Robot Robot con Altri Dai Maledizione Speriamo Più che altro Di riuscire a Sopravvivere La mia preoccupazione Attuale è quella Forse Devo aspettare Che si avvicinano Devo aspettare Che proprio Si avvicinano A me Eh Quello è il pericolo Perché nel momento In cui si avvicinano Vuol dire che Stai già sparando Diventano rossi E ti sparano Ok Questa dovrebbe essere In base alla mappa L'ultima Avanguardia Robotica Perfetto Andata Ottimo E a meno che Le batterie Non siano Tutte Cioè le batterie Le figurine Non siano Tutte qua Dubito Che ormai Le troveremo A meno che Non facciamo La sezione Con il robot Guarda se non ci muoio Uh Che rischio Ah Giusto Le monete Ma Sto fluttuando Eccole dove erano Beh oh In realtà Va bene anche così La telecamera però Christian Allora Calmi tutti Io Come faccio A prendere Certi oggetti Tipo Tu sei solido Allora Aspetta Allora Si è solido Ma Ha comunque Una consistenza Tutta sua O meglio Ci puoi salire Solo che poi Continua A girarsi Su se stesso Ok Calmi tutti Iniziamo Allora Dalle figurine Si va bene Non me ne servono Però A quanto Dobbiamo arrivare Eh Cerca le monete Ma non mi hai detto quante Forse le devo prendere tutte Ma speriamo di no Non ci arrivo Ci arrivo Ci arrivo Ok Questo vuol dire Continuare Abbassare Da una parte All'altra Allora Calmo Per fortuna Che il doppio salto Poi Ti permette Di muoverti ancora Allora Calmo Abbassati Perfetto Vediamo Vediamo Se raggiungo questa No 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 Ah Meno male che morire Non ti fa comunque Ricominciare le cose da capo Allora Io vorrei sapere Quante Monete vuoi 15 Perfetto Allora A me manca Quest'ultima figurina Benissimo Quindi Altre 5 monete Ma dai Io totalmente Convinto Il gioco Mi ha fregato Allora Da questo lato Non c'è più niente Qua ce ne sono ancora un paio Facciamo La cosa Più semplice Partiamo dall'alto Quindi Una Vai giù Vai giù Vai giù 2 2 Arrivaci 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 Bravissimo Poi Scendi Ci arrivo Questa No 14 E Non la vedo C'è un albero di mezzo Sai Vediamo E niente Prenderò Quest'ultima Proprio Salta due volte Ok Fatto Bella sta sezione Mi è piaciuta Molto Come posso dire Originale Originale Si Oh no Di nuovo Di nuovo Salta do Non la vedo